800.000 euro sono i fondi stanziati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità Silvio Paolucci per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2015 rivolta soprattutto agli over 65 e alle persone che rientrano nelle altre categorie ad alto rischio per i quali la vaccinazione è gratuita. Dal prossimo lunedì 10 novembre si potrà accedere alla vaccinazione direttamente nello studio del proprio medico di base oppure nelle sedi vaccinali della propria ASL di competenza. Anche se ogni anno sono milioni gli italiani costretti a letto dall'influenza stando alle prime stime molti sceglieranno di non sottoporsi alla cura anti-influenzale a seguito dei decessi avvenuti lo scorso anno in concomitanza delle vaccinazioni. Un trend che riguarda anche l'Abruzzo dove nonostante gli esperti continuino a raccomandarne l'utilizzo a chi ne ha bisogno o presenta particolari patologie per il momento si prevede un calo delle coperture. Ma io sono sempre per la libertà di scelta sono sincero però allo stesso tempo è bene che sottolini come assessore alla sanità che è giusto fare la vaccinazione che l'analisi tra quello che rende in termini di beneficio alla salute una vaccinazione e quello che rende purtroppo una nuova vaccinazione ecco decisamente la vaccinazione va fatta perché dà tanta salute in più.